Il nuovo Vescovo deve essere imitatore di Gesù. Ringrazio il Signore per tutta la disponibilità che ho trovato a Milano, ma anche a Gorizia e ad Aquileia. Sarò, come lo è stato Gesù, un servitore. Chi ama serve. Con queste parole Monsignor Carlo Roberto Maria Radaelle ha salutato in una gremita basilica di Aquileia i suoi nuovi figli, di cui a partire da oggi è il nuovo pastore. Milanese, 56 anni, Monsignor Radaelle è stato ordinato sacerdote nel 1980 dal Cardinale Martini. Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano dal 2004, è stato eletto nell'aprile dello stesso anno Vescovo titolare della Diocesi di Lambesi e Vescovo ausiliare di Milano e il 5 giugno è stato ordinato Vescovo. Ieri tanti fedeli sia di Aquileia che di Gorizia che hanno accolto il nuovo Arcivescovo, il quale ha assicurato impegno e vicinanza. Mi sento già a casa qui con voi e lo sarò per i giorni, i mesi, gli anni che il Signore ci darà di stare insieme, ha detto Monsignor Radaelle. Ora lo attende questa sua nuova missione in una chiesa decisamente più piccola di quella di Milano, ma che ha alle spalle una tradizione antica che affonda le radici nella chiesa di Aquileia, culla del cristianesimo di mezza Europa. Hanno partecipato alla solenne concelebrazione, oltre ai sacerdoti della Diocesi, anche gli altri tre Vescovi del Friuli Venezia Giulia, Crepaldi di Trieste, Mazzoccato di Udine e Pellegrini di Pordenone. Oltre all'Arcivescovo Metropolita di Ljubljana Anton Stres, di Capodistria Yuri Biziak, assieme al Vescovo Emerito Method Piri. Grazie.